Con Plastic Free siamo qui nella prima delle due giornate programmate di sensibilizzazione nella scuola Peluzzo della direzione didattica di Vasto. Grazie alla maestra Marina, Candida, Rosetta e alla direttrice Concetta. Buongiorno, grazie di cuore per l'iniziativa e per aver promosso in maniera così importante i temi che la Onus Plastic Free porta avanti dal 2019. La nostra scuola è sensibile da anni ai temi della tutela ambientale e l'educazione al rinuso creativo e al risparmio energetico ma anche al consumo consapevole. Abbiamo aderito ad un programma ministeriale dal titolo Rigenerazione Scuola fortemente voluto dal Ministero dell'Istruzione per insegnare ai bambini a vivere il mondo in un modo nuovo. nuovo nel senso di libero dalla plastica e libero da tante altre forme di inquinamento che possono minare le sorti del pianeta.